sei di si van quest'anno la sera del 16 maggio è la festa di shawot che ricorda il dono della torà sul monte sinai shawot significa settimane e cade sette settimane dopo pesa dopo la liberazione fisica ecco per gli ebrei anche la liberazione spirituale i nostri maestri chiamano questa festa anche seman ma tanto rateno il periodo in cui c'è stata data la torà proprio la torà è al centro della festa con letture e studio nelle sinagoghe addobbate con fiori la torà è stata data nel deserto sul monte sinai il monte sinai era forse il monte più piccolo che si trovava appunto nel sinai e nel deserto c'è una terra arrida per dimostrare appunto come va accettata la torà la torava accettata con umiltà e senza assolutamente arroganza ma soprattutto nel deserto perché ci vuole dimostrare che la torà è accessibile deve essere accessibile all'intera umanità per questo non è stata data in erez israel perché non è una prerogativa solo del popolo di israele durante shavuot si legge anche la meghillà di ruth una moabita convertita all'ebraismo e sappiamo che da ruth discenderà poi david amele cioè david il re e in seguito da david amele discenderà il maschia quindi questo per dimostrare quanto è importante possa avere una qualsiasi persona che accetti la torà quindi l'augurio che voglio farvi è che ognuno di noi possa avere la torà nel suo cuore per osservare la parola di dio e che questa possa portare la pace e la serenità e la prosperità al mondo intero a tutti haxamea buone feste